50 tra un ragazzo di nome Danny e una ragazza di nome Sandy i due giovani si conobbero in una notte d'estate in un villaggio turistico di nome Foggiamare dove vissero dei giorni molto intensi e appassionati insieme purtroppo alla fine delle vacanze furono costretti a separarsi e prestemente si salutarono con un addio ma inaspettatamente il destino volle che Sandy si trasferisse per motivi del lavoro del padre subito dopo l'estate a Cerignola stesso paese in cui viveva Danny e una Cerignola anni 50 rivoluzionata da rock and rolla brillantina tra i capelli ritmi, prorompenti, drive-in e auto da corsa andiamo a narrarvi la storia di Danny, Sandy e tutti i loro amici tutto questo è Chris! Sounds as snowman! Suuuuhhhh! ildo! Siamo tutti ragazzi, manca Demi, manca lì. Demi, ragazzi, Demi è stato in vacanza molto male, ma sicuramente conoscendolo sarete da porti con Nella. Secondo me quest'anno mette la testa a posto. Secondo me quest'anno rimorcherò più io che lui. Bene, che ci racconti, Demi, dai, raccontaci. Sono stato a Poggiamare, mi sono divertito davvero tanto. La serate giochi, cabaret, karaoke, baby show, gente molto educata. Però la cosa che ricordo davvero con tanto affetto è stata una sera passata in spiaggia con una ragazza, io e lei. Senti, ma io sono il tuo mio mio amico, no? A me puoi dirlo? Ma da come ne parli? C'hai tutti gli occhi al cuoricino. Non è che poco, poco, siete innamorato? Lo sai che io le donne le prendo, le sfrutto e poi le butto via. Sì! Bravo! Grazie, grazie, grazie. No, vabbè, era giusto per sapere. Dai, amici qua, amici qua. Sì, che prendi? Raccontaci. Guardate, guardate, ragazze, belli zucche qui in città. Bellissimo! Ehi, ragazze, vuole un anno di una persona. Lei è Terni e sarà qui con noi quest'anno. Ciao, Terni. Ciao. Vai, Terni. Ciao, ragazze. Spero di integri a me appena tra voi. Sì, sapete, io abitavo a Caponeta e dopo la fine dell'estate ci siamo dovuti trasferire con mio padre e per i motivi di lavoro che si faccia di insomma. Vabbè, Terni, mi segno o non mi senti? Noi qui parliamo di cose serie. Tipo? Tipo? Di esperienze estive. Ragazzi, intendo. Ah! Dimi un po', Terni. Tu hai avuto qualche inciucio quest'estate? Sì, appoggiamare. Ho conosciuto il ragazzo bellissimo di qui. E non vedo l'ora di vedere. Dimi un po'? Come si chiama questo maschione? Si chiama Terni. Terni Zucco. Ma adesso vi racconterò tutta la storia. Capito? Ragazzi, le donne vengono prese, sfruttate e buttate via. Ma raccontaci la tua storia, Terni. Sommação Armada. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.